Adri, no famosa, non si vuole dire questa ghiaggia. Adri, adri, oh, ah, faccio la rumpa da da. Madrugina di addio, mia figlia, sì, che è da te. Arre, ma di fare questa ghiaggia, ma di lasciare la ghiaggia, e l'occhiata, ma non si vuole dire questa ghiaggia. È un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua. E' spalla, no, ma come è? E' sempre voi, figli, un tipiesto, ma veniascio io! Oh, fanta, senti che ne sei durò. Allora, aspetta. Dunque, tra cento metri c'è un bivio, nella strada va in gennaio e ora la strada va in salita e l'altra va in discesa. Ti piace così? La strada che va in salita va in salita per un chilometro, un chilometro e mezzo. Poi c'è una bella cuba, una bella casuzzata siniscia. Più tu riesce che giù c'è una paida, la baracca va, i vesini, i maiali, i acili. Più tu riesce che ancora c'è una frana, un ponticello, un boschetto fritto di rami e nel boschetto c'è una montagna. Sopra la montagna c'è una gisuzza, sopra la gisuzza c'è una lampana, sopra la campana c'è una gisuzza, che sta giù l'uola la campana suona. E a chiesa c'è una palana, che sta giù l'uola la campana suona. Capisci questo? Eh, no, non c'è vita a te. Oppi più, hai da scendere la gisuzza, la strada che va in discesa. La, eh, scendidi, scendidi, scendidi e la chiede le informazioni. Arrivederci. Chi era? Come chi era? Dove? Che vuol dire dove? A telepono? Ah, ma scusate, i cosi paderini, un figlio, un funne. Eh, che hanno detto? Come che hanno detto? Chi? Ma come chi? Ma se che gli stavano a scusare. Io? No, sa, lei! Ma non è chi? Ma non è lei, lei è lei! Ehi, io, quando? Ora o cosa fa? Ma ora o cosa fa? Ma non è lei sempre fa? Ah, no, 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 va bene, va bene, va bene, ricapitoliamo. Ricapitoliamo, sì. Mi avevo chiesto cosa avessero detto i miei ragazzi al telefono, eh. Ah, i paderini. Eh, i miei strumenti, che ho avuto, non avrete. Ecco qua qua. Sì, cosa non c'è per tu una ciotola? Dai, eh! Non parli più, io non parli! Ecco, da qui. Eh, dottore, no maestro, discusi, il suo picchierino col caffè. Ah, sì, mettilo sul mio conto, grazie. Come vuole lei. No, lui discusi. No, è giusto lei. Vabbè, ciao, eh, arrivederci! Certo, posso mancanlo, tutto congo. Daniel, i ballerini a che punto sono? Sono quasi le sei, tra non molto la piazza inizierà a riempirsi Stella, tesoro mio! Pensavo, giusto a te sai? Vedi, mi dicevo, forse converebbe a tutti se posticipassimo un po' lo spettacolo Niente di scendere, solo un pochino E di quanto, scusa? Eh, beh, pensavo... E poi il d'ora? Che cosa? Vedi, mi dicevo, gli spettacoli di piazza non iniziano mai prima delle nove Perché noi dovremmo cominciare così presto? Perché oggi è la festa di San Sanzino! Gli Zetta è un numero importantissimo per il nostro santo padrone Ed è stato ricorrente in tutte le feste padronali del nostro maestro peseggiato finora Quest'anno l'organizzazione è toccata a me e ho fatto tutto per preparare Sette buffe diversi con sette portate ciascuno Ogni persona avrà sette piatti che serviranno per primo primo Secondo primo, primo secondo, secondo secondo, primo e secondo contro il dessert Parallelamente ai sette buffe ci saranno sette mostre fotografiche dedicate a sette temi diversi Le sette pedaglie del mondo, i sette re di Roma, i sette samurai, i sette colori del compagno, le sette note musicali, i... i sette nani E' tutto questo perché San Settino è nato il 7 settembre 1777 Sua moglie è morta di setticennia lasciandolo con sette figli E il loro nome erano sette! Bella, credo che tu sia un tantino stressata Stressata? Io? Ma non stai nel caffè di magitare? No, il caffè mi rilassa! Ok, ti rilassa No, ma io non sono stressata Guarda, signora, è vero che non sono stressata? Gli hanno mica lei, mio marito! Gli hanno mica lei! Forse è meglio se vai a distendermi un attimo, eh? Sì, forse è meglio che mi distendo un attimo E' stato? Ma se va a tu Che situazione? Allora, questi ballerini a che punto sono? Ah, ma mi capisca almeno lei! Parli, parli! Parlo? Sì! Ma no! Ma!